Il Consorzio di Bonifica Centro non riesce a riscuotere dai propri creditori e allora alza il canone per gli agricoltori. L'ente pubblico gestisce l'acqua destinata all'irrigazione dei campi di 78 comuni, di cui 44 nel Pescarese, ovvero tutti i comuni della provincia, a eccezione di Caramanico e San Teofemia. 25 dei comuni sono invece nel Chietino e 9 nel Teramano. Quest'anno gli agricoltori dovranno far fronte ad aumenti del 30% e intanto il Comune di Chieti deve al Consorzio 2 milioni di euro, di cui 500 mila sarebbero già stati pagati nel 2021. ACA invece è in debito di ben 7 milioni e mezzo senza considerare gli interessi di Mora e finora non ha raggiunto alcun accordo con l'ente consortile. L'allarme è lanciato dal consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli. Il tutto si riversa a carico degli agricoltori che sono vessati già dal caro gasolio, dalla mancanza di acqua nelle nostre condotte irrigue e adesso anche dal 30% in più di canone del Consorzio di Bonifica Centro a partire dall'anno 2022. Per il 2021 infatti è stato sospeso mentre hanno cominciato a pagare già le utenze extra agricole. Mentre tutto aumenta dalla luce alla benzina, gli agricoltori quindi rischiano una stangata anche sull'acqua. Un bene sempre più prezioso tra siccità e sprechi nelle reti idriche. Blasioli ha chiamato a raccolta gli amministratori di centrosinistra affinché presentino delle emozioni nei rispettivi consigli comunali. Noi con tanti comuni che sono qui oggi in conferenza stampa, Pescara, Popoli, ma anche Manopello, Montesilvano, Città Sant'Angelo, Sportore, Letto Manopello e tanti altri, Scafa, stiamo presentando degli ordini del giorno o delle emozioni all'interno dei consigli comunali perché vogliamo impegnare i singoli sindaci a tutela del mondo agricolo per fare in modo che i sindaci parlino con la regione Abruzzo, fino ad oggi silente, anzi addirittura con degli atti anche contrastanti e oppressivi nei confronti del Consorzio di Bonifica, per fare in modo che almeno questi aumenti vengano azzerati, fortemente diminuiti o quantomeno che vengano previste delle rate in più maggiori per favorire il pagamento. Il rincaro tra l'altro non è nemmeno accompagnato da un miglioramento del servizio. Nella variazione di bilancio del Consorzio infatti sono solo 30.000 gli euro destinati alla manutenzione. Ulteriori finanziamenti non sono previsti nemmeno col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie a tutti.